L'aumento dei casi in Abruzzo ricalca il trend nazionale, l'aumento anche nel Paese era prevedibile, era previsto, lei qualche mese fa lo aveva detto che probabilmente in autunno ci sarebbe stato un aumento fisiologico. Purtroppo è così, però chi conosce un minimo l'epidemiologia è l'epidemiologia locale perché poi il mondo non è solamente il bacino del Mediterraneo, quindi sappiamo come funziona questa pandemia, sappiamo anche come gira l'infezione alle nostre latitudini. E sappiamo ormai che questo gruppo di virus, i coronavirus incidono, anche quelli buoni che danno solamente il raffreddore comune, incidono soprattutto con il freddo, tant'è che si chiamano a caso virus di raffreddamento. Per cui era abbastanza prevedibile, meno male però che a fronte di un aumento di casi contenuto, a fronte di un numero di ospedalizzati comunque basso, a fronte di un numero di decessi comunque basso, c'è stata la vaccinazione perché l'anno scorso non avevamo questa variante, la variante Delta, che è una variante altamente performante in termini di infettività. Avevamo, avevamo, cominciava a girare in Italia l'inglese, la variante Alpha, che però è molto meno performante della Delta, cioè nonostante a novembre, vi ricordate, abbiamo avuto un picco epidemico importantissimo alle nostre latitudini. Adesso la situazione è diversa, ma è diversa grazie al vaccino. L'invito è a vaccinarsi, speriamo che possa diventare obbligatorio, così queste persone che non si capisce per quale motivo, a questo punto non le capisco più, dovrebbero probabilmente intervenire le autorità sanitarie a livello nazionale e obbligare questo sacrosanto vaccino, che è pur vero che non ci sterilizza a livello delle primavie respiratorie, perché sappiamo che un vaccinato si può infettare, però ha un grande merito, l'unico, che non ci fa ammalare gravemente e non ci fa morire. E attualmente è già tantissimo. I potenti del mondo hanno deciso, hanno preso la decisione di vaccinare nel 2022 il 70% della popolazione mondiale, significa che questa è la via giusta. Il problema è risolvere questa pandemia, questa infezione, nelle altre parti del mondo, laddove ci sono parecchi immunodepressi, soprattutto ai DS, è laddove che si generano le varianti pericolose, perché attualmente abbiamo Delta, che comunque, essendo molto performante, non fa entrare le altre varianti, quelle più pericolose, ma prima o poi ci sarà un superamento di Delta. E allora poi potrebbero esserci veramente dei problemi di nuovo globali. Quindi prima ci vacciniamo tutti e meglio è. Alle sue parole si capisce quindi che lei è del tutto favorevole ad estendere la terza dose alla popolazione senza limiti di fascia di età? Ma è proprio così. Purtroppo diversamente non se ne uscirà.